Sarà un Natale sorvegliato speciale quello che si apprestano a passare Palermo e le maggiori città d'Italia. Secondo una direttiva inviata a prefetti e questori dal capo della polizia Franco Gabrielli, che è stata anche al centro di un tavolo di discussione presso il Comitato Nazionale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico tenutosi presso il Viminale, le città italiane non sarebbero bersaglio di specifiche minacce terroristiche, ma la situazione internazionale con la crisi militare dell'Isis e le ultime tensioni alimentate dal presidente americano Trump sulla disputa territoriale israelo-palestinese desta non poca preoccupazione. E dunque via ad un Natale sorvegliato speciale dove anche a Palermo in tutta la Sicilia mercatini, discoteche e le piazze che ospiteranno concerti ed eventi religiosi saranno pattugliate da un numero più consistente di forze di polizia. La direttiva è tanto ampia che grande attenzione verrà data anche ai maggiori luoghi di culto cristiani e non, porti e aeroporti. A Palermo la Questura ha disposto un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio con attività mirate alla prevenzione. La città sarà infatti pattugliata oltre che da volanti, dai motociclisti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, da pattuglie appiedate, da agenti in Borghese e dalla Digos, che faranno servizio sulle principali arterie cittadine e lungo gli assi viari autostradali. Per tutto il periodo delle festività, inoltre, è stata potenziata anche la presenza di poliziotti di quartiere e quello delle pattuglie a cavallo che sorveglieranno i parchi e le principali aree verdi dal capoluogo. Presenti nelle strade dello shopping anche le unità cinofile, antidroghe e anti-esplosivo. Grande attenzione anche al concerto di fine anno in programma a Piazza Politeama. L'area, infatti, sarà appositamente delimitata e tutti i varchi d'ingresso saranno presidiati da personale delle forze dell'ordine munite di metal detector. Per tutta la durata dell'evento, inoltre, sarà istituito il divieto completo di commercializzazione di bevande alcoliche.